buonasera ocv sport io spero davvero che tra tutti sia il mio caro amico manfredi è un ragazzo veramente veramente a modo a parte l'odio calcistico che mi contraddistingue per la sua persona succhiami che grande che grande ragazzone sapete che il pancio invece dopo che abbiamo fatto la live sulla gott league eravamo al mob insieme è arrivato con in su ci hanno fatto un bordello della madonna hanno spostato sedie sembrava veramente che facessero il c***o che gli pareva a un certo punto ho visto che volevano andare dal barista ho fatto io il mecenate perché ovviamente conoscevo franco non appena il pancio ha alloccato il bartender franco del moba si è era serissimo ciao kid grazie per il secondo mese no veramente ho scoperto che il pancio è emiliano cioè non è terrone anche se ogni millimetro quadrato della sua persona esprime meridionalità mentre in succio è chiaramente buiese sposta la sedia qua e là bellissimo hanno hanno capo hanno capovolto il mob a milano fake news ma è di gioia tauro mi hanno preso per il culo io so che di reggio emilia il pancio non farò la mossa non può essere emiliano è emiliano è emiliano è emiliano io sono di reggio emilia e si becca in giro si è di reggio emilia è di reggio emilia dai fa la mossa non faccio la mossa panceroli è un cognome messinese il pancio è emiliano non è calabrese è emiliano e in succio lavorava nel centro commerciale del mio paese vicino a modena è emiliano il pancio è emiliano chiamiamo manfredi adesso chiamiamo manfredi il pancio dove è nato su google gioia tauro allora è nato a gioia tauro ma è sempre cresciuto a reggio emilia sei un amico può essere è di reggio emilia è di reggio emilia è di reggio emilia chiamo andrea omietol muto un attimo ciao andrea sei live streaming come ti ho detto prima sì 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 era per essere sicuri di di dov'è il pancio di reggio emilia grazie andrea grazie mille ti spiego dopo magari un salutone ciao 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 buona cena buona cena ciao sentite basta parlarne ve l'ho messa in culo ve l'ho messa in culo come ah ah l'ha detto apposta e allora quante probabilità c'erano che dicesse proprio reggio emilia pronto manfredi ciao ciao manfredone sono in live streaming posso metterti in viva voce un attimo di animali la chat di animali vi saluta manfredi e manfredone ti chiedo soltanto ma il pancio di dov'è quali sono state le opzioni uno di una un'opzione calabrese e l'altro che è di reggio emilia chi ha vinto lo chiedo a te chi ha vinto no tra chi ha fatto più tutti dicono che è calabrese io dico che reggio emilia di reggio emilia dicono mi hai preso ti ha preso per il culo è calabrese no è di reggio emilia allora vince questo concorso ancora una volta mario sturnione godo godo grazie manfredone grazie buona buona cena buona serata ciao ciao grazie ti voglio bene ciao ragazzi fine fine l'ha detto l'ha detto manfredi e andrea omiatol lo dovete sapere voi di dove il pancio o quelli che lavorano a stretto contatto con lui pagliacci di merda che non siete altro organizzato come dario au human safari no 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 non l'ho organizzato stavamo parlando del più e del meno a un certo punto abbiamo parlato che il pancio fosse calabrese pure io che mi innervosisco per le cose io dovrei stare tranquillo mentre sono qua invece no sono sempre a a a soffrire queste provocazioni del ma reggio emilia è un paesino della calabria sì e tua madre mi fai i boc... scusate scusate ecco adesso è colpa mia vero adesso è colpa mia adesso è colpa mia no questo è il classico momento in cui uno aveva ragione e sei passato dalla parte del torto non ci credo non si può passare dalla ragione alla parte del torto puoi continuare ad avere ragione ed essere un grande maleducato ma hai sempre ragione tu ok adesso ci calmiamo e faccio la mossa in maniera tale che risolviamo tutto con un grande amore va bene grazie a tutti Grazie a tutti. Continuo a confermare che non è veramente niente di che. Ciao. Grazie Jack per il sesto mese. Vabbè.